Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio presentarvi la parte più hilarante di quella che è stata la 4Fun di ieri sera con le supercarts V8 Australian dove in cabina di convento c'era il buon Carmelo Silvaggio e Aulo Cacciatore e praticamente è successo un episodio nei confronti di chi era in testa, Daniele Poli. Allora per capire bene quello che è successo vi rimando ad un episodio in cui ho fatto una mega gufata proprio nei confronti di Carmelo Silvaggio al campionato Formula 1 1991, eravamo a Lungaroring, ascoltate. Carmelo Silvaggio è il gran pilotone, non gli succede mai nulla, è vero Peppe? Favoritissimo di questa gara per rimanere nei top 10, sta facendo... Sto che prende le nuci... E si gira... Porco Giuda... Stacca tutto, dai... No... Oddio... Oddio funziona, funziona... Davvero ragazzi della chat, abbiamo i brividi, scherzi a parte perché è brutta così, fidatevi che commentare... Ok ragazzi, vi lascio allora l'episodio che è successo ieri sera, ci sentiamo dopo. Dai, ascoltiamo il giro di Daniele Poli. Battere però, muoio. Speriamo di no, almeno a sto giro no. A few moments later... No, no... Ecco, sbagliato... No, non ci credo... Non ci... Non è vero... Funziona, funziona... Non è vero... Cristio, ti giuro, non parlare mai bene di me... E io ti posso... Non ci credo... Non ci credo ragazzi, no... Mamma mia, è clamoroso, lo sto rivedendo... Mamma che gufo... Lo sto rivedendo ragazzi... Mamma mia, è incredibile ragazzi... Ho la pelle d'oca ragazzi... Tu sarai un gufo, io sono diventato d'oca... Mamma mia, non ci credo ragazzi, non ci credo... Ma che poteri hai? Mamma mia... Mamma mia... Mamma mia... Ha funzionato... Porco, io me ne vado... Mamma mia... Ragazzi, me ne vado pure io... Mamma mia sono... Ecco, il gufo ufficiale della comunità di SimDrivers... Fabrizio... Incredibile dai... Incredibile, mamma mia... Ragazzi... Questa è la conferma che ti... Cioè, che attendevamo da molto tempo... Perché... Questo è palese... E' ufficiale proprio... Ma già ho fatto una storia di Instagram... Quando ti sei girato tu... Che stavo con Peppe Calofro... Che io non ho detto... Vabbè è un caso... Ma qua... Devo farne un'altra... Cioè... Uno è un caso... Un due è la conferma... Cioè, il controllo della situazione... Cioè, praticamente... Oh, ragazzi... Quindi... Quindi... Se volete le tariffe sono... Per gli amici sono facili... Se volete cubare qualcuno... Non c'è problema... È un mazza... Grande... Credibile... Cioè... Ha sbagliato... Ma è incredibile... Altro che cornetto in macchina... Non c'è cornetto che tiene... Eh no... Qualcuno l'aveva scritto... Manco padre mio... Si salva qua... Oh... Quindi bene ragazzi... E' confermato... Sono purtroppo... Il gufaccio della comunità di SimDrivers... Ragazzi... E' bisogno veramente bellissimo... Io vi invito ad andare a guardare tutta la live... Perché è stata veramente spettacolare... La ritrovate qui sul nostro canale YouTube... Sulla nostra pagina Facebook... E anche su Twitch... Ovviamente... Perché ormai facciamo live ovunque... Io vi ringrazio per aver seguito... Ancora una volta questo video... Spero che vi sia piaciuto... Se è il caso... Non esitate a lasciare un pollice in su... Per far lavorare un po' l'algoritmo di YouTube... E iscrivetevi al canale... Se non l'avete ancora fatto... Tanto è gratuito... Non ci vediamo prestissimo... Nello specifico... Venerdì prossimo... Alle 21.30... Per la prossima... For Fun... Con l'Senna GTR... In tributo... Al mitico... Grandissimo pilota... Ayrton Senna... Da Fabrice è tutto... Un abbraccio... Ciao!